a magici su er magico allora come state vedendo a schermo sto scaricando tower of fantasy ovvero sto scaricando il gioco anche se lo sto scaricando non potrò giocarci prima di giovedì mattina alle due del mattino ma puoi iniziare a scaricarlo e crearti il tuo personaggio del cuore siccome attualmente il sito in totale palla e non si sa quando si riprenderà se ma si riprenderà magari morirà o magari no vi lascio giù in the description il link per riuscire a scaricare il client per pc bada per pc il gioco lo porteremo allo start quindi giovedì alle due di mattina a ca per me per me napoletano è mercoledì notte anche se giovedì lo porteremo mercoledì a ca giovedì mattino come cazzo lo volete dire ok lo porteremo allo start live con tutti i lag crash e problemi che determinerà il tutto se volete iniziare a creare il vostro personaggio del cuore e iniziare a vestire la vostra puttanella nel caso la fate donna più zoccolella possibile avete tutto il tempo del mondo scaricando il client dal link in description e niente raga scaricate iniziate a scaricare che cazzo volete poi arriviamo alla fine che mi dite e fabio ma io non ho avuto abbastanza tempo per riuscire a fare bla 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 no io ti sto dando il tempo e siccome ti sto dando il tempo devi stare solo zitto 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 ok baci stellari amici papi dunque